Il consigliere comunale di Taranto Luigi Abate porta l'attenzione attraverso una conferenza stampa l'opportunità di cedere al comune di Taranto l'unità navale Giuseppe Garibaldi per finalità museali e di sviluppo turistico e sociale del territorio ionico. È un'iniziativa per promuovere davvero far crescere il territorio di Taranto. Tra alcuni anni nave Garibaldi è fisiologicamente destinata ad essere dismessa e per evitare che faccia l'ingloriosa e atroce fine già accaduta al Vittorio Veneto insieme al qui presente Contramiraglio, l'ingegnere Giuseppe Briganti, abbiamo lanciato questa idea. Perché non fare di questa nave, di questa gloriosa nave, una nave museo? Ci siamo rivolti al Ministero, agli organi competenti affinché cedano al comune di Taranto la nave, una volta dismessa, proprio nell'ottica di promuovere il turismo, di fare una nave museo, ma anche sarebbe un'occasione per incontri, per la promozione culturale, sociale a Taranto. Devo dire che l'amministrazione Melucci si è dimostrata assolutamente insensibile a questa destinazione che invece sarebbe appunto davvero auspicabile. La nave Garibaldi rappresenta per Taranto il legame storico della città con la marina militare, la collettività ionica già vissuto con dispiacere la demolizione in un cantiere della Turchia della nave Vittorio Veneto, così il Contramiraglio Giuseppe Briganti. La nave Garibaldi rappresenta il legame storico della città con la marina militare, senza tenere presente che avere la fortuna di avere una porta aerea ormeggiata in città costituisce oltre che un attrattore turistico stabile anche un punto di incontro sociale come te stai ricordato dall'Avvocato Abate, ma anche un eliporto e non è di secondaria importanza in una città come Taranto che di attrattori turistici ne ha ben pochi per cercare di creare quelle condizioni anche lavorative che possono essere sostitutive dell'attuale situazione carente di posti di lavoro in una società soprattutto nei confronti dei giovani.